Troppo verde, allora ok La sto alzando La vuoi verso il verde o verso il rosa? Bastosi Vabbè, è quel luz lì Ma quale hai caricato? Il basic o quell'altro? Sì, no, ma dopo quando gliel'hai dato da mettere Quale gliel'hai dato? Ok, aspetta un attimo Siamo lì allora Sì, no, ma dico Ora lo devo settare Perché questo, magari quell'altro Era un po' più smorto, capito? Il basic Sì Va bene, ci provo Aspetta In realtà è il basic, video Zero, il risultato 44 secondi e 72